Il boss Matteo Messina De Naro resta in cella nell'ospedale San Salvatore dove è ricoverato da oltre un mese per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute legate al tumore al colon che ha. Messina De Naro viene trattato con la terapia del dolore. 25 giorni di terapia intensiva per recuperare dall'intervento chirurgico al quale era stato sottoposto per un'occlusione intestinale. Intervento eseguito lo scorso 8 agosto è perfettamente riuscito ma preoccupare i medici non è questo ma l'aggressività del tumore che sta avanzando velocemente. Per questo la sua adegianza in ospedale potrebbe essere molto lunga. I medici monitorano in continuazione le sue condizioni. Il boss di 61 anni è vigile e cosciente ma l'avanzare del tumore ha ridotto i movimenti fisici. Dal 17 gennaio scorso dopo l'arresto è recluso nel carcere alle costarelle di Preturo nel regime 41 bis. I medici ai vertici sanitari aquilani che lo hanno in cura sono in contatto con le istituzioni tra le quali il prefetto e ogni giorno vengono effettuate verifiche per decidere le modalità di gestione di una situazione dedicata e complessa. La certezza è che ora le condizioni del boss non sono compatibili con il carcere. Si era parlato molto dell'eventualità di un ritorno in cella ma l'aggravarsi delle condizioni ha stoppato tutto. Il boss ha avuto nelle ultime settimane anche la visita di alcuni parenti tra i quali la nipote legale Lorenza Gruttadauria Messina Denaro Norte si era fatto sentire perché non voleva essere trasferito dalla terapia intensiva dove era ritenuto paziente normale al reparto per detenuti. Sarebbe poi trapelato che il avrebbe detto che in caso di altra grave crisi non vorrebbe più essere curato.